La penisola sorrentina ha un paieraggio unico al mondo, con alte scogliere che cadono in un mare blu strepitoso. Un territorio che va salvaguardato e protetto, tema particolarmente sentito da Veolia. L'impianto di depurazione di Punta Gradelle è un progetto che prevede il trattamento delle acque riflui del comprensorio all'interno di una galleria. Un'opera ingegneristica che deve assolvere al rilevante compito sociale di tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria della popolazione. Mi chiamo Gianfranco Favali, responsabile della progettazione di processo di Veolia Water Technologies Italia. I problemi immediati sono stati risolti con soluzioni tecnologiche di particolare pregio, il cui processo decisionale ha comportato anche la necessità di concentrarsi su un altro aspetto essenziale, il contenimento dei costi di gestione ottenuto anche grazie all'adozione di EcoStructure. L'affidabilità di funzionamento di un impianto così complesso ha richiesto la scelta di un partner tecnologico di fiducia. Schneider Electric, con la piattaforma dedicata al settore water, ha risposto a questa esigenza. I benefici ottenuti sono davvero notevoli. Abbiamo stimato un risparmio anno energetico intorno al 15% e un'efficienza produttiva che ipotizziamo migliorata del 20%. La qualità dei risultati ottenuti dall'utilizzo di questa piattaforma ha pienamente soddisfatto le nostre esigenze e spinto a replicarla su altri progetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.